La musica arriva ovunque a una fortuna, lo dico sempre, che è in mente un ragionamento che avevo fatto il tempo fa, che è una delle fortune che ci dà la musica non solo a noi che la facciamo, ma a noi che la facciamo senza strumento in mano, è quella di portarci persino a viaggiare, persino a scoprire i luoghi, persino a entrare in un luogo che magari, no? A volte capita nella grande città di andare in una chiesa, in un cortile, in uno spazio che non si conosceva. È una delle funzioni della famosa pancia, cuore, testa, che si muove e fa scoprire e fa diventare curiosi. Sì, il viaggio vuol dire tante cose. Sei un medicista di natura, è emigrante, è viaggiatore, internazionalista, parla tante lingue, ascolta, ascolta l'aiuto, ascolta, no? Conosce la fragilità. E la fragilità è fondamentale. Tutti fragili e tutti abbiamo bisogno di aiuto. E a volte negare l'aiuto, in certi casi, no? Apprioristicamente vuol dire non riconoscere la propria fragilità. Perché lo dico sempre. Chi dice che non ha bisogno di aiuto sta dicendo un altro città.